la leader di fratelli d'italia m5s pd e iv spaventati dal rischio di perdere la poltrona m5s pd e iv sono talmente spaventati dal rischio di perdere la poltrona che non smettono di raccontare bugie e accampare scuse di ogni tipo pur di non andare a elezioni lo afferma giorgia meloni presidente di fratelli d'italia oggi di maio dice che se dovesse iniziare la campagna elettorale l'italia perderebbe il ricoveri e non potrebbe fare i ricorsi contro le case farmaceutiche per i vaccini gli fa ecco la bellanova secondo la quale andare al voto vorrebbe dire rinunciare ai soldi europei e saltare tutti gli appuntamenti in europa sono menzogne colossali in tutte le altre nazioni europee le elezioni si svolgono regolarmente e nessuno pensa di sospendere la democrazia basti pensare aggiunge che oggi si sta votando in portogallo e che a marzo andranno al voto anche l'olanda e la bulgaria basta con le bugie della sinistra e dei grillini questo parlamento non può dare all'italia una maggioranza compatta per risolvere i problemi degli italiani e fare le scelte coraggiose di cui c'è bisogno per fratelli d'italia la via maestra sono le elezioni